Uno dei temi caldi roventi dell'estate è certamente il prolungamento del contratto di Frenchesi che scade fra un anno. Ancora più caldo in questa estate già calda a livello meteorologico è proprio il fatto che il Milan abbia perso due giocatori importanti come Donnarumma e Ciananoglu già a zero e sarebbe insopportabile sul piano dell'immagine, sul piano tecnico, sul piano economico perdere a zero anche Frenchesi. La situazione è abbastanza delineata. L'entourage di Frenchesi ha nella testa e ha comunicato un ingaggio importante intorno ai 5-6 milioni. Il Milan sembra che abbia offerto, ecco perché la forbice è abbastanza ampia, 3 e mezzo, ma la gente di Frenchesi a Tangana ha detto «Signori, io non ritorno qua, ve l'ho detto già nel video della settimana scorsa, sarò qua quando ci saranno delle cifre almeno molto vicine alla nostra richiesta». E la cosa si è fermata lì. Ma adesso c'è un altro elemento ancora più importante e clamoroso per quello che riguarda il giocatore Frenchesi e il giocatore al quale deve essere rinnovato il contratto, contratto che scade ripeto fra un anno. Sono andato a vedere dopo che leggo che Brian Diaz dovrebbe partire per le Olimpiadi con la Spagna. Brian Diaz non è ancora un giocatore del Milan, ma molto vicino a essere un giocatore del Milan. Poi leggo invece un giocatore del Milan, Calulu, convocato per la nazionale francese che partirà per Tokyo. Allora sono andato a vedere l'elenco delle squadre che partecipano alle Olimpiadi di Tokyo, che si giocano dal 22, giochi olimpici di Tokyo che iniziano il 22 luglio e terminano l'8 agosto. Guardo le squadre, sono 16 e c'è anche la Costa d'Avorio. Perché la Costa d'Avorio? Perché la Costa d'Avorio è arrivata in finale contro l'Egitto nel campionato Under-23 e quindi di diritto, con orgoglio, parteciperà ai giochi olimpici anche la Costa d'Avorio. Mi sono andato ancora più in formale e sembra che fra i tre fuori quota, possono essere tre fuori quota nati prima del 1 gennaio 1997, perché la squadra è formata dai giocatori dopo il 1 gennaio 1997, ogni squadra può avere tre fuori quota e Franchesi dovrebbe essere uno dei fuori quota della Costa d'Avorio. Ora bisognerà capire se questo comporterà anche la mancata partecipazione al raduno di Franchesi, che magari comincerà subito la preparazione, visto che la squadra, dato che le Olimpiadi iniziano il 22, dovrebbe essere là 4, 5, 6 giorni prima, quindi può anche esserci la possibilità che Franchesi non sia al raduno e si alleni e parta direttamente con la Costa d'Avorio, che è in un girone comunque di ferro, perché sarà con Arabia Saudita, è quindi un avversario abbordabile, ma anche con Brasile e Germania. Ripeto, giochi che iniziano il 22 di luglio e finiscono l'8 agosto, magari per la Costa d'Avorio finiranno anche prima, ma non voglio certo augurare a un giocatore del Milan che esca da una manifestazione. Questo che cosa comporta? Innanzitutto un problema di preparazione, ma conoscendo Franchesi sono sicuro che sarà tetragono a ogni ritardo, a ogni problema, perché poi sarà il solito splendido Franchesi. Ma ecco il problema, perché il Milan aveva forse intenzione di incominciare a parlare, a sondare il terreno con il giocatore, con il suo agente, proprio, l'avevo detto già altre volte, subito al ritorno dei giocatori a Milanello. Così tutto deve essere anche probabilmente rimandato. La ferma intenzione, la fermissima intenzione della società è di chiudere la questione in ogni caso prima della fine del campionato. Manca un anno, e lì mancherebbero invece 11 mesi, non un anno, ma non si vuole partire, non si vuole cominciare la stagione 21-22 con il problema Frank, che sì, non ancora rinnovato. C'è abbastanza, rassegnazione è una parola sbagliata, c'è abbastanza realismo da parte dei dirigenti rossoneri, sanno che non possono assolutamente perdere uno dei leader della squadra, uno dei giocatori più forti, uno dei più forti centrocampisti del panorama internazionale. Stiamo vedendo gli europei, ma un giocatore della forza, della continuità di Chessy. Abbiamo visto per esempio il Renato Sanchez, che ha giocato una buona parida col Portogallo, che assomiglia un po' come caratteristica a Frank Chessy, però si contano sulla punta delle dita di una mano non certo di due. Ecco perché non c'è way out, non c'è via di uscita, il Milan deve rinnovare, ma questo rinnovo che tutti auspicano veloce, 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 credo che fino all'8 agosto non potrà essere chiuso. Quindi bisognerà ancora aspettare, il Milan intanto si rafforzerà in altri ruoli per poter regalare a Pioli una formazione e un gruppo degno di partecipare da protagonista, magari non da protagonista assoluto, ma da protagonista alla prossima Champions League. C'è questo discorso per due giocatori sicuri, Brian Diaz e Kalulu, mentre molto probabilmente anche per Frank Chessy, che ovviamente sarà uno dei, diciamo quando sfilerà, sarà uno dei grandi protagonisti della Costa d'Avorio e sarà per lui certamente un orgoglio essere alle Olimpiadi, per una formazione che è una formazione competitiva, perché per essere arrivato a secondo nel campionato Under-23 africano, perdere solo dall'Egitto, direi che è una formazione certamente che vuole onorare la manifestazione. Questa è la novità, sulle altre fronti non ci sono invece notizie clamorose, vi ho già detto che Jovic e l'alternativa a Giroud nel caso non riuscissero il Milan a chiudere la questione con il Chelsea, che Odriozola, il difensore del Real Madrid, è l'alternativa a Dalot se il Milan non riuscisse a chiudere, ma c'è ferma intenzione, sia per quello che riguarda Giroud, ma dipende molto dagli agenti, sia per quello che riguarda Dalot, di riuscire a chiudere la situazione presto. Ho già detto ieri che il fatto che Marco Salonso probabilmente approderà a casa Barcellona, a casa Blaugrana, potrebbero alzare le possibilità che venga Firpo, perché quando il Milan prende Dalot, Calabria, Firpo, Teo Hernandez e i quattro difensori più calulu al centro, ha una difesa totalmente competitiva. Ma l'argomento di oggi è il presidente alle Olimpiadi. Non era difficile immaginarlo, sono andato a vedere Costa d'Avorio presente, mi sono informato presso anche il suo entourage, e quindi c'è grande possibilità che Frenke si vada a Olimpiadi. Vediamo se questa sarà la linea e continuerà a essere questa linea, o qualcosa cambierà. Per oggi questa è la situazione. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, e iscrivetevi. Iscrizione gratis, salgono, la famiglia aumenta, diventa sempre più numerosa, e noi siamo contenti.